237 imprese industriali della provincia di Alessandria, pari a 8.500 addetti, con un fatturato complessivo di 3,1 miliardi di euro, hanno detto che la produzione va decisamente meglio. Lo hanno fatto rispondendo ad un'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera effettuata dalla Camera di Commercio di Alessandria. L'indice della produzione industriale per il secondo trimestre 2021 segna un più 12,8%, si ritorna insomma ai livelli pre-Covid. L'unico dato negativo è il meno 2% della grande industria chimica, ma per il resto i dati fanno ben sperare. Non sembra, ma allentate le restrizioni Covid riparte tutto e riparte subito. Il buon dato congiunturale consente inoltre di crescere ancora ed ha anche l'occasione all'impresa di colmare qualche buco tecnologico che è tuttavia presente. Il 70% delle aziende alessandrine non ha ancora adottato tecnologie 4.0 né innovazioni tecnologiche. Ancora una volta è la piccola e media industria tra in in particolare la gioielleria e la metalmeccanica, con il picco della grande industria metalmeccanica più 80% e della piccola industria di gioielleria a più 70,2%.